Il Ciliverghe esce con un punto dallo scontro contro il Vigasio a casa Cili a Orlandi e risponde Tosi. Il Vigasio prova a spingere nei primi minuti di gioco proprio con l'autore che poi siglarà l'1-1 nel secondo tempo che però calcia di poco a lato. Da lì il Cili si alza e risponde. Prima Nolaschi intercetta un passaggio in uscita e calcia di prima venendo fermato con i piedi da Businarolo. Alla seconda chance però i gialloblu vanno avanti. Bresciani trova splendidamente Orlandi che da posizione defilata fa 1-0 trovando il suo secondo gol con la maia del Ciliverghe. Nella ripresa i padroni di casa ripartono forte senza trovare però il raddoppio. Nella prima chance del secondo tempo Orlandi calcia debole verso lo specchio mentre poi Bresciani spreca una gigante occasione con Businarolo che sbaglia l'uscita a causa del pressing del numero 9 del Ciliverghe calciando alto da fuori aria. Il Vigasio ci prova e dopo il tiro fuori di poco di Orfeini trova l'1-1. Tosi trova il tapin sul cross basso di Fanini da dentro l'aria. Dopo 5 minuti di recupero e un'altra parte di secondo tempo con poche chance l'arbitro chiude le ostilità e consegna un punto ad ambedue le squadre con il Ciliverghe che tornerà in campo domenica fuori casa per la partita contro il Fanful alle ore 15. Grazie a tutti.